No no, facciamo andare anch'essimo Allora, siamo qua su Elettra Pavoloso Trail di Cumiana Con gente calda Gente con le Giant Il mendurista 29 Ed è questo che faremo perchè l'altro La forestale glielo ha rovinato Perchè non ho fatto un cacchio L'ha fatto Giovanni Maria Musso, si, ok Grazie Inquadra il manubrio con RISE Da 62 Con tanto di navigazione Non ce l'ho il manubrio, io ho il volante Va in giro coperto per camuffarlo Qua sono caduto strisciato Sull'asfalto in coppa del mondo Ma perchè ha le stelle quel manubrio Ma Dio fa Special guest Francesco Terribile Con l'ignoranza addosso Mi raccomando Facciamoci tutto Dove cazzo vai E due Mari Anela No Grazie a tutti. Qua rallenta che poi ce la curva infame. Tutta a sinistra, tutta a sinistra qua. Stai tutta a destra. Bravo. Wow. wow 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 wow